... musicisti, ma un po' è una crisi del nostro secolo, viviamo il fatto che dobbiamo scegliere fra fare quello che ci piace fare o vendere un prodotto, quindi sono tante le persone che mi chiedono magari quando sono prestato a sé e come mai non mi hanno visto X-Factor? E quindi, vieni, questa canzone è stata scritta quasi come una risposta a questi insulti l'importante alla fine dei conti è fare quello che si vuole e che viene da dentro tante parole solo perché queste chitarre vecchie non si accordano Noi, 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 noi ... musicisti ... musicisti .. musicisti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.